Salve a tutti, sono già Franco Marini, benvenuti alla bottega didattica l'importante è fare da sé vorrei presentarvi in questo video tutorial Google Maps, o per meglio dire una sezione di Google Maps che si chiama My Maps, le mie mappe che consente di creare delle mappe personalizzabili che possono essere utilizzate nell'attività didattica Google My Maps permette infatti di creare differenti mappe con differenti livelli inserire testo, immagini, video, tutto gratuito è relativamente semplice da utilizzare a cosa può servire Google My Maps nella didattica? bene, sono numerose le tipologie di attività che possiamo realizzare possiamo documentare un evento che si colloca nel territorio può essere un viaggio di istruzione può essere una mostra di un museo una mostra artistica può essere un evento folcloristico può essere un'uscita didattica possiamo raccontare una storia la storia del personaggio di un romanzo la storia di un personaggio storico la storia è la biografia per esempio di un autore della letteratura e così via possiamo anche rappresentare tutto ciò che è collocabile in una carta geografica in un'area geografica può essere illustrato possiamo per esempio realizzare un dossier su tematiche di attualità oppure possiamo creare mappe storiche possiamo rappresentare i dati non solo i dati sulla disoccupazione nelle principali città italiane e così via diciamo che non c'è limite a quello che si può fare è molto versatile quali sono le capacità e le competenze? è chiaro che sono tante che dipende dall'uso che si fa e da ciò che si realizza comunque abbiamo prima di tutto messe in gioco le capacità comunicative e grafiche perché come vedremo si tratta di costruire una mappa inserendo dei punti e in ciascun punto inserendo del materiale e delle risorse multimediali poi si tratta di mettere in gioco anche le capacità analitiche perché l'evento, la storia, la mostra, il tema che dobbiamo documentare rappresentare nella nostra mappa va esaminato a fondo ma poi va rappresentato in modo molto sintetico qual è l'immagine che meglio rappresenta quel certo evento qual è il testo che descrive nel modo più sintetico ma completo quel certo fatto valutative perché chiaramente dobbiamo cercare le risorse dobbiamo esaminarle dobbiamo valutarle e inserire quelle che riteniamo le più ricche e significative pensiero creativo quindi capacità di creare qualcosa e pensiero critico sono entrambe in gioco le modalità di lavoro sono sia individuale che collaborativa digitiamo google maps su un motore di ricerca e quindi recchiamoci su google maps sarà il primo risultato che troviamo e questo l'abbiamo usato quasi tutti bene in alto a sinistra abbiamo un menu se clicchiamo sul menu comparirà appunto un menu piuttosto complesso e vediamo che la quinta voce è i tuoi luoghi cliccando su i tuoi luoghi si apre un altro menu che è composto da quattro voci etichettato, salvato, visitati e mappe recchiamoci su mappe ancora una volta abbiamo tutta una serie di mappe che ho preparato per imparare a utilizzare google maps e qui in basso vedete abbiamo crea la tua mappa cliccando qui do avvio alla procedura che mi permette di creare una mappa personalizzata ecco qua questa è la mia mappa è senza titolo qui ho tutti i dati della mia mappa cliccherò per aggiungere un titolo scriverò test di google my maps un sottotitolo descrittivo bene, una volta che ho fatto questo salvo la prima operazione è compiuta ho a disposizione in questo caso l'Europa ma posso andare dove voglio se devo fare un lavoro che ne so sulle scoperte geografiche visualizzerò l'oceano atlantico per esempio adesso mi interessa l'Europa posso anche visualizzare in differenti modalità adesso usiamo quella che viene prima tanto non importa posso cambiare visualizzazione quando voglio bene, come dicevo questi sono gli strumenti che ho a disposizione questo è annulla vediamo cosa succede prima di proseguire ricordiamoci che tutte le modifiche che io effetturo vengono salvate automaticamente su google drive abbiamo un solo livello poi vedremo brevemente cosa sono i livelli e cominciamo il nostro lavoro su questo livello diamo un titolo a questo livello per esempio la mia città è salvo e qui cominciamo a lavorare per lavorare che cosa devo fare? bene, posso usare questa barra di ricerca io per esempio voglio cercare Cagliari posso o recarmi su Cagliari che qui ho ecco qua bene, a questo punto io posso come si vede c'è già un pin posso aggiungere alla mappa questo pin ho cercato Cagliari il pin identifica Cagliari e posso aggiungerlo alla mappa adesso è nella casella di ricerca nell'area di ricerca è stato trovato ma non è ancora stato inserito nel primo livello della mia mappa quindi clicchiamo su aggiungi alla mappa e a questo punto posso editarlo vediamo brevemente gli strumenti di editing che possiedo posso prima di tutto editare lo stile posso cambiare l'icona posso cambiare il colore dell'icona questo è abbastanza intuitivo quindi non mi soffermo a lungo su questo posso anche cliccare su altre icone come vedete è tutto in italiano che sono divise per categorie aziende, crisi, locali servizi luoghi di interesse eccetera eccetera vedete ci sono varie icone posso cambiarla come voglio adesso lasciamo questa icona vedete sono numerose lasciamo questa icona dicevo e vediamo le altre possibilità bene io potrei per esempio ecco questo è il porto di Cagliari ingrandisco posso ingrandire quanto voglio e cambiare in ogni momento la visualizzazione vedete il porto di Cagliari adesso torno a questa visualizzazione e voglio segnalare il porto di Cagliari quindi che cosa faccio utilizziamo questo menu aggiungo un indicatore e lo metto per esempio qui e qui scriverò porto di Cagliari posso anche editare un testo questo è il porto della mia città e così via salvo e cos'altro posso fare? posso modificare quello che ho scritto certamente cliccando sulla matita posso aggiungere contenuti multimediali vediamo come funziona questo strumento clicco e come vedete posso aggiungere un'immagine o un video la procedura è semplice posso o cercare l'immagine per esempio posso cercare porto di Cagliari o posso procedere incollando con un link che mi sono già procurato per esempio io mi sono già procurato un'immagine del porto di Cagliari clicco qui il link la seleziono e il gioco è fatto a questo punto posso anche salvare ovviamente posso aggiungere quanti pin voglio quante immagini voglio quanti testi voglio proviamo adesso a selezionare ecco io abitavo qui a selezionare un altro punto della mappa abitavo esattamente qui punto 3 la mia poniamo prima casa qui scriverò un testo di accompagnamento ma in questo caso volevo mostrare un'altra caratteristica estremamente utile e cioè la possibilità di incollare un link e salvare come vedete io adesso ho incollato un link in questo caso un articolo del mio blog cliccando il quale mi reccherò nel sito che ho linkato e che adesso trascurerò quindi possiamo inserire anche dei link vediamo un altro esempio adesso abito in un'altra zona la cerco ma la potrei cercare anche qui per esempio Quarto Sant'Elena via Sanzio alla faccia della privacy eccolo qui aggiungo alla mappa il punto e a questo punto inserisco un'altra immagine anzi in questo caso proviamo a inserire una mia immagine cercandola dato che credo di essere molto famoso ah ci sono ecco ah la laurea bene ho inserito l'immagine questo questo sono io in realtà è scattata a Ferrara d'argento a questa foto ma non fa niente quindi ho aggiunto un video chiedo scusa un'altra immagine andiamo a vedere il posto dove lavoro il liceo Abruzzo località Pizzeserra eccolo qui aggiungiamo la mappa come vedete è molto semplice adesso proviamo ad aggiungere un video io ho già preparato un video qualsiasi ho l'url del video ecco qua ingresso alla seconda prova d'esame e abbiamo anche il nostro video cosa succede? quando io cliccherò qui comparirà il video lo potrò guardare qui o da Youtube o da Youtube eccetera è chiaro che io qui posso inserire che ne so il percorso di Garibaldi da Marsala fino a Napoli le immagini date risorse video sui vari esploratori dell'Africa o dell'America da Colombo a Vespucci a Magellano posso inserire il percorso di un personaggio non so letterario di un romanzo oppure appunto la biografia di un artista di uno scrittore di un politico e così via posso ricostruire le fasi della guerra dei trent'anni della seconda guerra mondiale insomma posso fare tante cose vediamo gli altri strumenti abbiamo visto come si inserisce un pin come si modifica vediamo questo strumento molto semplice calcolo delle distanze a me in questo caso non interessa ma una volta che clicco qui lo posiziono prendendo su questo pin poi su questo invio ed ecco le distanze oppure vediamo quest'altro strumento un percorso clicco qui scelgo che tipo di percorso poniamo a piedi e clicco sui vari punti del mio percorso ecco quel mio percorso bene questo era il primo livello posso anche utilizzare vari livelli ciascun livello sarà dedicato a un argomento o sotto argomento specifico vedete che qui è stato creato automaticamente un secondo livello dove ci sono le indicazioni stradali ma per creare un livello cosa devo fare? aggiungi livello ecco in questo caso il livello senza titolo lo scriviamo secondo livello ecco adesso io posso naturalmente cliccando su questa casella di selezione la mia città il primo livello posso eliminare il primo livello in realtà non l'ho eliminato semplicemente non lo sto più visualizzando voglio lavorare sul secondo livello per esempio le mie vacanze ecco poniamo vado qui in Abruzzo faccio prima cercare sul Mona ecco qua sul Mona qui vicino sono stato in vacanza questo non lo aggiungo nella mappa ma mi volevo recare qui per trovare più o meno da queste parti punto uno vacanza sulla neve ma potrebbe essere qualcosa di ben più interessante per esempio sto lavorando su quelli che sono i flussi dei profughi dei rifugiati in Italia e sto inserendo dei pin nei luoghi in cui partono o nei luoghi in cui vengono fermati dalle varie barriere costruite dagli stati europei qui scriverò il mio testo e salvo a questo punto farò il lavoro di aggiungere una foto che ho già preparato ecco qua siamo io e mio figlio con un buffo copricapo e salverò e così vedete ho creato un secondo livello potrei ancora continuare ma avete capito come funziona posso anche vedere l'anteprima della mia mappa eccola qui vedete questo è il prodotto finito che io posso o modificare o condividere andiamo a vedere adesso un altro aspetto la condivisione possibile in fase di realizzazione della mappa cliccando qui mi si apre la solita finestra tipica di Google di Google Drive dalla quale io posso vedete o prelevare un link o condividere tramite i soliti social network o la mail naturalmente qui non posso condividere ancora nulla perché devo modificare è privata modifico queste sono le varie opzioni che ho ecco adesso è pubblico la mia mappa è pubblica cioè può essere trovata dai motori di ricerca attivo in questo secondo senso significa che chiunque abbia il link può accedere cosa può fare? niente solo visualizzare io posso però modificare queste prerogative per esempio può modificare la mappa chiunque abbia il link naturalmente non è molto sicuro quindi lasciamo può solo visualizzare ma se voglio collaboratori che devo fare? bene posso inserire qui le loro mail per esempio pippo chiocciola pippo punto com il mio amico pippo potrà modificare ho aggiunto pippo gli arriverà una notifica che gli segnalerà che è chiamato a collaborare alla realizzazione di questa mappa e può solo modificare naturalmente potrebbe anche solo visualizzare ma adesso l'esempio era mostrare come si può configurare come si possono configurare le opzioni di condivisione in modo tale da avere dei collaboratori naturalmente ne posso aggiungere tanti proviamo alunno1scuola.com per esempio ho sbagliato e così via bene annullo naturalmente ecco qua come vedete adesso ho tre livelli la mia mappa è piuttosto articolata torniamo alla nostra presentazione e cerchiamo di dare delle indicazioni più chiare sul piano della didattica bene questo è un lunghissimo elenco che io ho fatto ma mi sono fermato al punto 13 ma potrebbe continuare posso per esempio documentare e tenere nota con google my map di un percorso di apprendimento in ambito geografico il mio territorio la mia provincia la mia regione il mio comune eccetera posso raccontare riportare su mappa la trama di un racconto di un romanzo con i percorsi dei veri personaggi per esempio posso ricostruire il percorso di ulisse nell'odissea posso rappresentare eventi storici come ho detto prima le campagne napoleoniche guerre eventi storici per esempio la seconda guerra mondiale per esempio il terrorismo per esempio la guerra fredda dando ai diversi studenti diversi incarichi magari posso realizzare anche una timeline cioè posso associare alla localizzazione nello spazio anche una individuazione nel tempo dell'evento o del luogo o del fatto che voglio raffigurare posso rappresentare visivamente sulla mappa una certa epoca un certo paese un certo movimento per esempio i filosofi greci ecco la filosofia in Grecia e quindi i vari luoghi in cui sono vissuti i vari autori Zenone ad Elea Socrate ad Atene eccetera eccetera o non so i luoghi della cultura umanistica rinascimentale la rivoluzione scientifica posso ancora per esempio per quanto riguarda lo studio delle lingue assegnare lavori sulla civiltà e la cultura di un altro paese l'Inghilterra Londra oppure realizzare un tour virtuale individuando i luoghi più significativi di una determinata magari città in una determinata epoca oppure in un'altra epoca ancora posso ricostruire fenomeni di attualità per esempio dicevamo prima le ruote dei profughi per esempio ci sono state da poco le elezioni comunali con i risultati delle elezioni comunali oppure ancora non so i dati sulla disoccupazione o sulle istruzioni in diversi paesi europei o in diverse città italiane posso per quanto riguarda le scienze della terra non so segnalare e documentare i fenomeni vulcanici in Italia i fenomeni legati al bradisismo i fenomeni tellurici i disastri naturali oppure abbiamo già visto posso lavorare sul territorio il mio territorio il mio comune con google map io posso ingrandire fino al dettaglio se andiamo adesso su google map chiedo scusa ecco posso cambiare visualizzazione ottengo vedete dei risultati posso arrivare a un ingrandimento considerevole e quindi lavorare anche proprio sul dettaglio qui coltiveranno qualcosa qui ci sarà una chiesa che ha significato storico qui c'è un evento folclorico eccetera eccetera facciamo ripartire la presentazione pensate quindi non so individuare i luoghi di interesse artistico archeologico le tradizioni gli eventi le manifestazioni che so gastronomiche qualsiasi cosa posso per quanto riguarda l'arte non so le mostre più importanti di un certo pittore oppure gli esponenti di un movimento artistico in un certo periodo storico oppure le chiese gotiche romaniche in Francia in Italia eccetera eccetera quindi le possibilità le possibili applicazioni sono tantissime non c'è limite a quello che si può fare è un tipico strumento un tipico servizio stile coltellino svizzero che mi permette di dare risposte anche molto differenziate con uno stesso strumento a esigenze didattiche che si incontrano nella quotidiana età e che sono ovviamente sempre legate alle circostanze così differenti nelle quali ciascuno di noi si trova ad operare quello che ci serve sono tanti coltellini svizzeri più che un grande coltello con una grande lama tagliente insomma non appunto la soluzione didattica definitiva ma tanti piccoli strumenti e piccole soluzioni molto plastiche molto elastiche molto versatile e molto adattabili qui ho messo un video in cui sempre in italiano abbiamo un video tutorial forse anche più lungo del mio si è di 37 minuti ben fatto meglio del mio senz'altro ma io volevo limitarmi a qualche cenno per mostrare come è semplice e magari approfondire il discorso dal punto di vista didattico quindi chi volesse può anche consultare questo 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 video tutorial e questo è il link a un articolo che ho scritto sul mio blog su Google My Maps posterò nel box informativo sotto il video tutorial il link di questa presentazione in modo che chiunque possa disporre anche di queste altre risorse su Google Maps bene vi ringrazio per la pazienza e buona serata a tutti